Questa sera il grafico è già fatto. Perché sfruttiamo quello che ero già fatto due settimane fa. Il donato lo guarda preoccupante. No. No. Non è preoccupante perché c'è solo l'80%. C'è pure il recuperone. Più di così. Iniziamo. Ci scaldiamo. E in 8 minuti, mantenendo le 110 pedalate al minuto, raggiungiamo il 65%. E' già fatto, ma lo spiego. Pian piano ci scaldiamo. Arriviamo all'80%. Lo manteniamo per circa 10 minuti. Recuperiamo 3 minuti. Ritorniamo velocemente all'80%. E finiamo la lezione. Tutto. Mi dica. Ho detto che fornisco di foglietto per far due conti speed. Credo che sia circa 160. Va bene. L'altra volta avevamo fatto lo stesso allenamento. Quindi un fondo completamente aerobico in salita. Questa volta lo facciamo in pianura. Ma non proprio pianura, pianura. Perché se no, la tizia, se vi faccio restare qui per 45 minuti, seduti, va via. Allora. Cioè, stiamo qualche volta riducendo un po' la pedalata. Iniziamo con 110. 100 pedalate al minuto. Poi passiamo alle 90. Che con 90 è più facile alzarci. Il riscaldamento, però, seduti. Bene. Seguite la musica, seguite il tempo. Mi raccomando, non partete mai per la tangente. 110 le pedalate, non di più. Comunque, tizi, guarda che questa è carina, eh. Basta solo chiuderla bene. Eh? Abbiamo fatto tic. No! Il canotto. Per non cadere giù. Aggiungiamo un bricciolino di resistenza. Quale è durissima? È dura? È dura? Ma il grano sarà una lezione veloce. Il volano deve scaldarsi, eh. Mi raccomando. Non è che gli facciamo prendere aria, eh. Aggiungiamo un bricciolino di resistenza. Ancora un po'. Manteniamo. Dario, tutto bene? Secondo me sono andati tutti a far raperitivo. Ma Omar, nuoti anche tu. Nuoti anche tu. Nuoti anche tu. Mauro? No, no, non ti capi Mauro, sì. Marco? Allora, Mauro, sei tu? Paolo? Però c'è un Mauro che viene con voi. Ah, ok. Tu, Marco, nuoti. Ma non rivedete! Eh sì, i cartellini! Poi, scusate, Marco, Mauro e Paolo si assomigliano, eh. Perché voi non vedete l'affinità! Aggiungiamo ancora un bricciolino! Poco, poco, poco! Tipo, voi non sapete, ma il Dario, tutte le volte che lo guardo, mi viene Simone. Poi, poi, poi dopo ci penso e dico no. Diminuisce la velocità, aggiungiamo resistenza, 105 le pedalate al minuto, puntiamo al 70%. Ma guardate il Dario, non assomiglia a Simone. E' su sopra! No! Cosa hai fatto, Samantha? Non ho capito cosa è successo. Doviamo raggiungere il 70%, eh. Tassola Samantha lo raggiunge per l'incazzatura il 70%. Azzunga un bricciolino! Azzunga un bricciolino! Azzunga un bricciolino! Anche due lati! Se uno è occupato si va a sull'arco, no? E' giù! Voi state a guardare il pelo nell'uovo? Obiettivo 70% E ancora salvo su Leggeri, leggeri Tre E giù Quattro Tre Due Uno Su Sempre leggeri, leggeri E rientro Dimmi Sam Perché hai dovuto spostarla? Due uomini non ci passavano Visto che avevo ragione Aggiungo resistenza Poca Perché 90% Le è pedalate al minuto 75% Si sale Gli uomini pensavano già a scenari apocalistici Dicevano Dovrà passare un tiro C'è un'autopompa che deve caricare E invece no E invece no C'erano due uomini che dovevano C'era l'altra parte No 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 90% Nel pieno del camminuto Mi raccomando Aggiungo bene resistenza Ogni attivo 75% Donato Aggiungi Ricordatevi che le gambe Non devono girare a vuoto Devono iniziare a sentire Un po' di resistenza 3 2 1 In su 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 6 9 9 10 12 3 7 8 9 10 10 10 12 13 14 15 15 16 17 16 17 17 18 sempre 90 pedalato al minuto una chiusura in più siamo qui 80% quindi piattone non esageratamente piattone un po' da 1 a 10 8 il moreno è a 8 perché si è già slacciato tutto avete chiuso? si no ritmo non ci alziamo rimaniamo qui 90 pedalato al minuto sentite la resistenza sui pedali dopo i miti già alziamo forza forza davide ci sei non è che mi fai come la Simona che io ti dico un top e tu abbassi ma va bene e Broly può essere la maglia lunga Samantha dove sei? dove sei? benvenuti benvenuti su 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 allora aumenta non è che mi fai come la Simona 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 ok un brinciolo non due Grazie a tutti. Diminuiamo la velocità, aggiungiamo resistenza, 80 pedate al minuto, 80%. La marina si vuole alzare, giustamente. Cominciamo a prendere il ritmo. 1, 3, 2, 1, start! La marina si vuole alzare, giustamente. 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 Ok, al riestro, giustamente. 1, 2, 1, start! Come va! La marina si vuole alzare, giustamente. 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 Ok, rientro... Non si molla, fino al recupero... Grazie a tutti 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 E su Grazie a tutti 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 E giù Non si Dove siamo Quattro Grazie a tutti 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 Stop Dopo Grazie a tutti Poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non importa